Poche ore ancora e riprenderanno le prestazioni ambulatoriali presso l'ospedale Luigi Curto di Polla. Una notizia attesa dopo una lunga pausa dovuta alla diffusione dell'emergenza pandemica che ha imposto la chiusura delle attività ambulatoriali al fine di tutelare la salute del personale sanitario al lavoro per fronteggiare l'emergenza e dei pazienti ricoverati presso la struttura ospedaliera per problemi di grave natura. Il virus che si è diffuso nei mesi di marzo e aprile anche in Campania con il Vallo di Diano che è risultato colpito con i suoi oltre 150 casi accertati ha reso necessaria l'adozione di misure di contenimento estreme come la chiusura anche di numerose attività ospedaliere tra cui anche le attività ambulatoriali a partire dal 5 marzo scorso e con successiva proroga dello stop lo scorso aprile. La ripresa di tali attività non è stata facile. Dalla regione era arrivato l'ok alla riattivazione delle prestazioni ambulatoriali lo scorso 5 maggio ma per rendere ciò possibile presso il curto vi era la necessità di adottare misure di sicurezza ed anticontagio obbligatorie a cui l'ospedale di Polla si è adeguato con l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e riqualificazione creando percorsi di sicurezza. Da domani riaprono quindi gli ambulatori anche presso Luigi Curto ubicati al piano terra dell'edificio storico. La ripartenza ufficiale e anche delle visite ambulatoriali partiranno invece lunedì prossimo 6 luglio. Soddisfatto il direttore sanitario del Luigi Curto il dottor Luigi Mandia che garantisce abbiamo creato uno spazio eccellente che porterà il curto ad essere un presidio all'avanguardia per le attività ambulatoriali.